Per il tuo riposo, scegli la grande qualità Heminflex. Il singolo costa solo 169 euro, il matrimoniale solo 338 euro e riceverai due cuscini, il copri-rete, il copri-materasso, la rete ortopedica con doghi in legno e in più la trapunta in vera piuma d'oca per la primavera, un'altra per l'autunno e unendole avrai la terza trapunta invernale e inoltre il copri-piumino in puro cotone. Tutto questo con piccole rate da circa 15 euro al mese. Non aspettare, chiama subito 051 8060. Grazie a tutti.